Ehi, benvenuti nella terza partita, la terza puntata del torneo della Mestizia con Zetto What's up? What's up? Siamo molto anni 90 con questa cosa Allora, tu sei imbattuto Sì! Ai 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 Io invece ho perso con Norri per un pat sbagliato da 10 cm Una stronzata e 5 pat nella 17 per dire, anche tra l'altro Va bene E quindi, però tra l'altro il problema è Se adesso Norri vince con Edo E io perdo con te Cosa succede? Non avevamo calcolato questa cosa No, perché abbiamo detto io perdo contro Norri, perdo contro Neck Facciamo la finale, tu e Norri e Edo ne E invece no E invece ho vinto contro Norri, i nosi tra l'altro Ops! È un problema, vabbè, vedremo, ci riuniremo per capire cosa fare Vedremo se tanto succede tutto nel senso Tanto bisogna, devo vincere La tua pallina è da un'altra pallina, ah ok Si sa, e si sa che io nei momenti di Killer Instinct Con la tua altissima survivability Oh merda, un po' la faccio in uno se la tiravo più forte Allora Vai Mostrami la tua survivability No Sei un figlio della merda, lo sapevo che succedeva Eh guarda, abbiamo fatto lo stesso pelo entrambi, quindi fa stare Io ho fatto l'all-in-one qua, devo dire Ah sì? E Norri mi ha detto Ma lo hai fatto apposta? No, 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 l'ho fatto apposta, assolutamente Chiaro 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 Mi sembra La pallissia Questa è No Stavo per dire questa ho un'automatica Ma infatti questa è automatica, l'ho fatta anche prima in uno Ma quanto hai tirato? Eh, uno e sette, come sempre Io ho tirato uno e cinque mollo, quindi Ma porco demonio Aiaiaiaiaiai Tanto adesso voglio questa Ecco, lo sapevo Maledetta Eva Sbagliata? Sì, l'ho sbagliata, ma credo sia abbastanza indolore come cosa Ole Ciao Credo sia piuttosto indolore, a meno che A meno che No, ok, meno male Bastardo, sono già Stavo già dicendo il recupero, veri Mamma mia, ho tremato Sto già facendo troppe cazzate qua, eh Non va bene Lo sapevo che poi quando, quando, quando era il momento della verità Io poi mandavo tutto a troia come al solito Lo sapevo io, lo sapevo io È storta? È storta? Ma come fa ad essere storta? Ecco, vedi, questa è la puntata della La puntata del bestemmione, vedi questa Cioè, ma dai Vabbè, ma tu sei, tra l'altro tu stai vincendo Tu sei, tu sei in finale Sicuro, quindi che cazzo te ne frega Eh, ho capito, ma se vinco questa Avevo vinto a prescindere Eh, vabbè, ho capito Avevo vinto tutto cheat Potevi definirti comunque vincitore morale, dici Dai! Mi sta uscendo mononocca, eh No, non mononocchizzare, per favore Prego, non è il momento Ho un sacco di autocontrollo Se non l'ho fatto con le 14v che nella 15 con Norri Non lo faccio più Allora, questo, vabbè, questa si sa già Che salterà fuori Ah, io l'ho fatta in uno prima Cazzo? Non lo so, culo Oh, l'ho fatta È saltata dritta sopra la buca Ecco, la mia no No, ovviamente Lo stavo per dire, ovviamente la mia no Allora, ma comunque sei ampiamente sotto par Dai, secondo me stavolta non fai qualcosa Ma no, io non sono sotto par Io sono sul par giusto Sì, sul par giusto Allora, questa Ecco, ma porco Io questa la faccio sempre in uno Va bene Io questa non l'ho mai fatta L'ho fatta, no, l'ho fatta con Norri L'ho fatta in uno, è vero No, l'abbiamo fatta tutte e due in uno In tre l'ho fatta adesso La prima volta Questa è lunga Ma porco, in tre Questa qua, Norri è partito prima di me Ha fatto buca Ha messo buca, ha esultato un quarto d'ora In culo a te, in culo a te No, così, non proprio Però più o meno E poi l'ho finita anch'io Sei cazzato tantissimo Benissimo Così non posso neanche tirarla alla prima Benissimo Sono contento Uff Io non posso esultare prima del tempo Perché di solito quando succede poi faccio Eh, fre, però Ti dimentichi che puoi Ma non lo so Non ti abbattere Guarda, te ti abbatti sempre Poi quando succedono le cose E poi vai in paranoia No, no, no Anche come ho detto a Edo Non gettare paranoia a grappolini Tra l'altro è rimasto malissimo Quando l'ho detto Cosa? Sono almeno sei Sei, meno sei Eh, vabbè Ho tutto il tempo del mondo Per fare qualche cazzata Quindi Stai pure tranquillo, guarda Stai tranquillo Stavo già per tirarne una Qui Hai girato un po' intorno Ma qua c'è la possibilità Se di nuovo rimbalzata male La tiravo, eh Guarda che se c'entri bene La buca proprio al centro Proprio la spari fortissima Io questa C'è tantissima possibilità Che poi alla fine Ti torni forte forte indietro Quindi No No, guarda che forse Con il secondo rimbalzo di pala Ok Va bene Sono arrivato a un'altezza decente Allora Perché si è fermata? Ha preso il rimbalzo sbagliato Della gobba Mi sa, sai? Come fa a prendere un rimbalzo Della gobba? Non lo so Forse hai tirato troppo forte Come? Io l'ho vista dentro Già Anch'io Io l'ho vista entrare Ha fatto il lagone del male, eh Però È perché Ti vedi Ti sei rilassato Della vittoria Hai Sei già in finale Hai la testa già alla finale Non so È per quello È per quello Hai la testa alla finale E monio E ricordati Che questo video Se tu Mononochizzi Lo paghiamo in due Quindi Non farlo Io no Perché io lo posso editare Quindi posso mettere una pezza Ecco appunto Non lo fare Quindi Non funziona la cosa Perdi anche tu Non lo fare Questa è troppo forte Sai Sì Temo sia troppo forte Vabbè Che cazzo di colpo ho fatto Di merda Vabbè Lo stesso Questa invece tu L'hai fatta uscire Vabbè Alla fine dicevate Come fai a fare così In due Vedi Alla fine Avete capito tutti Come si Sì In due non è difficile Il problema poi è Centrare questa Dici Ecco Minchia È la prima buca Che sono sotto Vedi Io ho fatto un Secondo colpo Qui Edo L'ha fatta in una L'ha fatta? Eh ma anch'io Ce la stavo facendo Il problema è che È bullshit Io invece Ho fatto Ci ho tirato troppo piano Mi si è fermato Nell'alfpipe Ok Bene Mi si è fermato Nell'alfpipe E l'ho fatto Praticamente Da Da prima Della sega Da prima Della sega circolare L'ho messo Con il doppio rimbalzo Ho rischiato di fare Un danno Io qua sto sempre Cercando L'angolazione magica Che me lo fa fare in uno Ma perché? È tanto carino Prendere il centro pieno E poi fare l'approcino Bello Bello tranquillo Sendo il fino goloso Poi rischi Ah man albatross Pi 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 di pi pi di pi pi di Allora Oddio mio So già Uh Ho preso un po' lunga Lo so già che poi alla fine Tu Poi alla fine in oasis Mi farei il culo Però Guarda È stata È stata carità divina Una volta Dici che ti sei giocato A tutto al karma Mi sono giocato al karma Perché Norrie ha fatto Lo spocchioso All'inizio E quindi Ha fatto lo spocchioso Sì sì Ha fatto il galletto E quindi Sai Quando uno fa il galletto Io devo punirlo male Vedi Vedi Che poi tra l'altro Norrie che fa il galletto È proprio l'ultima cosa Che uno si può immaginare Eh sì perché Perché veramente Io ho detto Eh Ho fatto 49 Tu 39 No freco 37 eh Ho detto Bene Ti massacro adesso Sono rimasto Quando l'hai detto Ho detto What? Sai com'è finita Dove vai? Dove cazzo? Piano Piano Non ti agitare Tanto con che microfono Me l'hai detto E con il mio Fre Quando Spigono No 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 Possiamo fare Partire una colletta Un Patreon No Comprate un microfono Non lo zetto No Io se volete Ci metto Gran parte del denaro Oh È tocca È tocca Ho sentito Due pugnetti Sulla gamba Mi sembravano Per non tirare pugno Sul tav Vabbè però Questa te la vai Questa è colpa tua Questa è colpa tua Questa non puoi prendertela con nessuno Che sia al di sopra delle parti o al di sotto delle parti Non puoi prendertela con nessuno Quella è colpa tua Ma come Io ho fatto così Esattamente così E farò la stessa cosa tua Suppongo No L'ho messa Incredibile Ho imparato Ho imparato a spese A spese della prima partita Perché qua ho fatto 5 Quindi non benissimo Sei spento? Se vuoi farlo Ho detto No 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 Ti 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 mutare Vuoi andare in paranoia Che dobbiamo fare la seconda partita No dove stai andando? Dove mi stai andando? Dove è andata? No vabbè dai Hai viaggiato giusto Sì sì Troppo viaggia contro i legni Hai preso il rimbalzo del legno Olè Questo tiro è brevettato Z-shot TM Sì Questo funziona Bene Ho fatto Beh ho fatto 3 in meno Nella prova Ho fatto 35 Che è tipo record Sul percorso Credo Che cazzo hai fatto A fare 35 35 credo sia record Del percorso Cioè Io chiamo la bullshit Facciamo se non ha rivinto Boh Ce lo studieremo adesso Andiamo nella war room E studiamo Va bene Va bene Quindi Se vi è piaciuto il video Cliccate il mi piace Se non avete ancora fatto Iscrivetevi al mio canale Ma anche al canale di Zetto Così come a quello di tutti gli altri Partecipanti al torneo della mestizia Ci sono i link in descrizione Per tutti E direi che ci vediamo per la finale Qualunque essa sia Contro chiunque sia Esatto Ciao Sicuramente c'è Zetto Sì Ok Ciao Ciao Ora ho finito la notizia Non riuscivo a cliccare Ciao Ciao